ciao a tutti continuiamo la nostra serie di aperi charm allora praticamente niente oggi invece di farvi vedere ancora altri charm di aliexpress volevo siccome stanno iniziando ad uscire qualche anteprima qualche anteprima della collezione estiva visto che quella della festa della mamma ormai è uscita e la potete già trovare online nel store eccetera eccetera e vi ho detto chiaramente di non comprare niente adesso ma di aspettare che esca la promozione del bracciale in omaggio purtroppo non posso mettervi nessuna foto perché altrimenti finirei nello spoiler nel copy di violazione copyright eccetera eccetera quindi sono qua per parlare un pochino con voi farei volentieri un aperitivo ma in questo momento questo dopo l'operazione ho anche il reflusso e quindi non posso fare aperitivo o l'acqua siete appoggiati sulla bottiglia dell'acqua ok quindi niente una periciarma un po all'acqua ok per me per voi visto che ho cambiato l'orario di pubblicazione ho deciso appunto di metterlo per le sei così non so vi fate un pre mentre preparate la cena o un pre film serale in sostanza niente vi volevo commentare appunto le nuove uscite mi avete seguito in questo momento in mezzo ho fatto un casino sì comunque allora prima di tutto aspettate la promo della festa della mamma che non so quando inizia e comunque sempre il solito bracciale rigido ve l'avevo fatto vedere su instagram se non mi seguite su instagram male perché su instagram vi ogni tanto vi pubblico le anteprime che trovo cosa che qua non posso fin quando appunto non non è in vendita la roba e quindi niente vi avevo messo le folle foto del bracciale che regalano che nient'altro è che un altro bengol rigido con la chiusura a cuore e sopra il cuore il cuore fatto open work e sul cuore gli hanno fatto una sorta di farfalla che assomiglia tanto a una ragnatela come forma cioè almeno in tanti anche a me all'inizio e in tanti poi mi avete detto sembrava una ragnatela cioè sembra una ragnatela comunque è un cuore con all'interno una farfalla non ci sono incisioni né niente se aspettate appunto insomma se volete comprare qualcosa per la festa della mamma è arrivata a 129 euro di quello che volete spendere e oltre aspettate almeno vi portate a casa qualcosa detto questo volevo parlarvi delle anteprime stive invece che niente sono molto molto molte stive fantasiose roba mai vista poca roba mai di uscita tra charm pochi estivi appunto e charm per l'uscita del film della sirenetta della disney che avevano già fatto una collezione della sirenetta della disney se vi ricordate avevo i di charm oi charm e che sono fatti benissimo ci sono tutti i personaggi proprio disegnati realizzati più che disegnati molto 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 bene e niente adesso l'hanno rifatta molto 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 male ma prima di parlarvi di quello vi voglio annunciare che ci sarà in uscita pendenti così siete tutti felici perché ogni volta appunto quando anche vi chiedevo che charm volete vorreste per le collezioni ogni volta vi scriverete non pendenti non pendenti loro hanno recepito sempre recepiscono sempre quello che vogliono gli utenti sono sarcastica comunque tutti pendenti abbiamo una medusa che cambia colore una medusa blu che cambia colore azzurra ok poi c'è un paguro che si illumina di notte con il guscio o carapace o non lo so comunque il guscio ha fatto a punta che appunto si illumina di notte i paguri luminosi abbiamo sì poi c'è una morrina che non si capisce bene la dimensione ma costa 39 euro è blu e ha un po di sfumature la montatura è tutto in argento poi tanto per cambiare una nuova farfalla una nuova farfalla l'abbiamo fatta azzurra con delle sfumature che vanno verso il lilla comunque un'altra farfalla azzurra sempre aperta sempre nella stessa posizione poi c'è un gecko hanno fatto un gecko blu blu e azzurro blu insomma sui toni sempre azzurro blu blu azzurro così abbiamo un bracciale blu azzurro per l'estate uno per la primavera e uno per l'inverno adesso mi raccomando fateci dei charm blu e azzurri anche per l'autunno mi raccomando comunque un gecko blu e azzurro esattamente come il camaleonte dell'anno scorso che era azzurro giustamente no verde non li canno verde non esiste azzurro poi c'è una clip che sinceramente l'ho vista sia in clip sia in bull non so sinceramente se faranno anche la sfera comunque nel catalogo c'è la clip con luna stelle e tanti cristalli anche in questo caso sfumature blu che verrà 39 euro è piccolina se non sbaglio all'interno si al silicone all'interno al silicone e poi c'è la collezione disney allora collezione disney che ci hanno realizzato un sebastian che è un granchio tipo in stile tartaruga quella azzurra che marina che poi hanno fatto anche in rosa quella con il cabochon sopra ok c'è il granchio fatto uguale praticamente con il la pietra in cabochon pietra vetro in cabochon arancione che ce lo fanno pagare esattamente come disney perché è disney e quindi costa di più costerà 59 euro e non c'entra niente con sebastian non ha la forma di sebastian zero così come ursula che è una perla sì una perla blu scusate viola viola con i tentacoli che avvolgono appunto questa perla sul colore del viola tanto tutto pendente ok tanto che ci poteva mancare appunto un altro polipo eccetera visto tutti i polipi dell'anno scorso o polpi eccetera eccetera comunque ci sarà anche questo poi ci sarà la sirenetta pendente sempre smaltata in azzurro con la coda azzurra e un charm normale a forma di conchiglia con sopra la sirenetta che nuota l'unica cosa decente è un secondo me è una conchiglia sapete quelle fatte a chiocciola sì che solitamente si usa per ascoltare il mare eccetera eccetera l'anno fanno fatto questa conchiglia anche questa pendente a 69 euro in shine e quindi se la posso ottenere perché niente c'è anche in questo caso dici ma perché in shine e non in argento una conchiglia vabbè niente poi ci sono delle altre uscite vabbè tante della pandora mi un sacco di mani di fatima protettrici eccetera un nuovo passaporto c'era già lo rifacciamo passaporto un pendente con macchina fotografica rosa dei venti e mappa mondo a forma di cuore come se ci mancassero questi tre elementi sempre tutto pendente ragazzi tutto pendente una nuova ape anche questa in shine a 79 euro un altro pendente con stella luna e sole sempre a 69 euro ovviamente il sole è in shine ying e yang che si che si incastrano si dividono e è un no questi sono della pandora mi quindi lascerei perdere comunque hanno fatto una farfalla anche per la pandora mi tanto per cambiare quindi ragazzi bo nel senso poi ho visto delle esclusive essere che non so se arriveranno anche da noi erano molto interessanti ma non so se arriveranno anche da noi e quindi non non lo so commentare perché per ora sono esclusive essere e quindi boh nel frattempo vi ho commentato e a l'immaginazione di questi nuovi charme perché appena potrò pubblicarveli ovviamente ve li farò vedere appena qualcuna ce li ha eccetera ve li farò vedere soprattutto su instagram seguitemi prima di tutto su instagram sullo stesso profilo quindi mi trovate con lo stesso nome e poi ovviamente arriverò anche qua su youtube considerazioni personali il risparmio di risparmiamo tutti anche questa volta sicuramente e io sono molto ultimamente sono molto 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 delusa come vi avevo già detto negli scorsi due video perché perché ragazzi non c'è più fantasia cioè i pezzi che che fanno non hanno dei colori è tutto blu non hanno non sono realistici non hanno dei colori decenti non le forme sono sempre strane se non sono bambinesche sono strane e quindi non riesco a capire perché cioè poi mi spingono a valutare altre marche e altri prodotti e altre cose per riuscire a terminare i bracciali facendo così neanche mi spingono a comprarne di nuovi cioè a farne di nuovi non lo so voi che cosa ne pensate di di queste ultime uscite che hanno fatto sia per la primavera sia per la festa della mamma e adesso questa che vi ho raccontato che sarà la collezione estiva non lo so vi consiglio di aspettare anche i saldi che solitamente iniziano tra giugno e luglio si sono molto vaga solitamente da metà giugno ci sono già e ai primi di luglio stanno quasi finendo quindi anche lì stiamo a vedere un po che cosa ci mettono in saldo e soprattutto se riescono a spedire le cose fatte bene e non che ogni volta c'è sempre un problema vediamo un po perché anche quello è fantastico e niente si sono un po polemica sì comunque niente vi ho lasciato con questa questo racconto di anteprime in questo aperi charm e fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo nel prossimo video ciao